Un buongiorno innanzitutto da qui, da Medjugorje. Non ho fatto il calcolo che ora è da voi adesso, però noi iniziamo la giornata e come sempre noi qui a Medjugorje la iniziamo con la preghiera, con la devozione a Maria. Ecco io sono il nunzio apostolico in Bosnia e del Zegovina e sono qui perché ieri abbiamo fatto la messa da requiem per Monsignor Oser, il visitatore apostolico che per tre anni ha curato un poco l'attività pastorale a nome del Santo Padre qui a Medjugorje. Sono contento che anche nel vostro paese ci siano delle persone aperte che danno attenzione alla devozione alla Madonna. Perché è Maria che può risolvere tante situazioni e tanti problemi della nostra vita. Noi abbiamo una devozione speciale, so qui in Italia, ma probabilmente estesa anche ad altre parti del mondo, che chiama Maria, Maria che scioglie i nodi. I nodi sono tutte quelle cose aggrovigliate della nostra vita, della vita anche della società, perché anche lì ci sono dei nodi. La Madonna è colei che può aiutarci. e naturalmente lei ha bisogno anche della nostra collaborazione. Come col Signore non possiamo dire Lui fa tutto. Lui può fare tutto, però ci siamo anche noi. Lui ha voluto noi nella storia e quindi la volontà di Dio è che anche noi che siamo nella storia diamo il nostro contributo per la soluzione dei problemi nostri personali e per i problemi della storia. Sono anche ben contento che vi siate riuniti. Mi hanno detto che c'è un congresso. Congresso vuol dire un insieme di persone che riflettono, che pregano, che cantano, sempre alla luce e spinti da questa devozione alla Vergine Maria. La devozione alla Vergine Maria, come sapete, non deve essere una cosa sentimentale, ma deve essere una cosa che si basa su pensieri ben pensati, una riflessione. Ecco, allora da che cosa parte questa riflessione? parte dalla parola di Dio. Ecco, è vero che la Madonna non parla molto nei Vangeli, forse lì a Cana ha detto qualche cosa, però io sono certo che molti insegnamenti che Gesù ha fatto e poi sono contenuti nel Vangelo, lui li ha appresi anche sotto forma umana, specialmente durante la vita di Nazareth, a contatto con Maria e non dimentichiamo anche San Giuseppe, la sapienza dell'uomo giusto, la sapienza dell'uomo semplice, la sapienza del lavoratore, dell'operaio. E allora è chiaro che dove c'è la Madonna c'è anche Gesù e la Madonna che ci porta a Gesù, ecco perché la devozione alla Madonna deve essere anche cristocentrica e cristologica. Tutto deve convergere verso Gesù perché lui è l'unico salvatore del mondo. Anche a Cana ricordate, fate tutto quello che Egli vi dirà. E allora è una frase questa che sintetizza tutta questa dinamica di Maria che spinge, che conduce verso Gesù. E io in questo momento auguro a tutti voi che questa devozione a Maria possa aprirvi veramente ad una vita ecclesiale autentica. Ecco l'altro aspetto. Gesù è la Chiesa. In queste due realtà deve essere fondata, inserita la devozione alla Madonna e verso queste due realtà deve tendere la nostra devozione alla Madonna. Auguro tanto successo, tanto progresso spirituale come frutto del vostro congresso. Vi terrò presente nelle mie preghiere, vi teniamo presenti qui a Meggiugori nelle nostre preghiere e vi do di cuore la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.